Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto nel Mario Kart Wii Allora, eccoci arrivati in una nuova sezione che si dedicherà, non al Gran Premio, perché come avete potuto vedere abbiamo vinto tutto, il 100cc e faremo delle prove a tempo con tutti i personaggi, iniziamo con ben Mario Ok, vediamo che macchina abbiamo Che tazza, eh? La moto standard, fighissimo Baby Mario che va in moto Corsa automatica, adesso scegliamo a caso i circuiti Aspettate Trofeo banana, Borgo Delfino Massi, dai, facciamolo Cercheremo di battere il tempo record, anche se non credo che ce la facciamo perché nel primo tempo non sono mai stato bravo anche se mi piacciono perché sei solo e puoi goderti il circuito in tranquillità Come in tutti i giochi di Mario Kart nel proprio tempo hai sempre tre funghi da utilizzare con cura E noi li utilizzeremo andando sul ponte elevatoio Bene ragazzi, sono felice di farne proprio a tempo mi piacciono Così vediamo se riusciamo a battere il tempo record Speriamo che sì Anche se impossibile sarà Cioè, impossibile, è possibile però Non vi faccio discorsi troppo ampi perché non sarebbe il caso Poi ieri mi ci sono esercitato Wow, un attimo Sì, il ponte elevatoio è alto E ora guardate la figata Troppo forte È una figata Spero che la grafica, ragazzi, sia abbastanza buona perché secondo me è buonissima la grafica Non dite di no perché non è così Ora per tutto il circuito sto zitto Spero che la grafica Guardate Fichissimo È il mio salto preferito E poi è l'unico Sì, questo è un posto proprio stupendo Per il ponte elevatoio Vai ragazzi, non dite di no perché siete mati Sì, scommetto che fra un po' Cioè, è impossibile Qui non hanno proprio il calcolo giusto delle dimensioni Perché guardate Baby Mario fra un po' diventa più alto delle finestre Delle case Cioè Non hanno sbagliato a disegnare i personaggi O le case Cioè, fra un po' Supera in altezza pure le recensioni Cavo Lì come avevo già detto c'è la scorciatoia Ma non la usate Perché è meglio sprecare questi ultimi funghi Così Vabbè, proprio ora si sta avalzando il ponte Ma vabbè, avete visto la figata Sì, ma intanto io pensavo che facciamo questo circuito Per il ponte elevatoio alto Sì, nuovo record Abbiamo cercato di Abbiamo battuto il tempo Infatti ci hanno salvato i dati fantasma Molto bene ragazzi Allora ci vediamo con il prossimo personaggio Prossimo circuito Prossimo tutto Ciao ciao